Veniamo ora al modulo numero 7, quello relativo alle spese di ristrutturazione edilizia. La principale novità di questo quadro è rappresentata dall'approvazione del Decreto Legge numero 70 del 13 maggio 2011 che ha abolito l'obbligo di inviare la comunicazione al centro operativo di Pescara per quanto riguarda l'inizio lavori. E quindi nel corso del 2011 fino al 13 maggio per i lavori iniziati, i lavori di ristrutturazione iniziati fino al 13 maggio 2011 continua a permanere l'obbligo di comunicare la data di inizio lavori attraverso la raccomandata di inviare al centro operativo di Pescara. Per i lavori di ristrutturazione iniziati dal 14 maggio 2011 questo obbligo è venuto meno. Vale la pena di precisare che la data da prendere in considerazione per verificare se si è in una o nell'altra casistica è quella di effettivo inizio dei lavori, così come era in precedenza per quanto riguarda la comunicazione al centro operativo di Pescara. A fronte di questa novità sono state apportate delle modifiche nel quadro della dichiarazione dei redditi. Quindi per quanto riguarda un esame generale della normativa, dal 14 maggio 2011 è venuto meno l'obbligo di inviare la raccomandata al centro operativo di Pescara, ma occorrerà indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile e gli estremi di registrazione che costituiscono titolo per accedere alle detrazioni fiscali previste per i lavori di ristrutturazione. Cioè tutti quei dati che in precedenza, o comunque parte di quei dati che in precedenza comunicavamo all'agenzia delle entrate attraverso la raccomandata inviata al centro operativo di Pescara oggi devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi. Altro elemento, anche questo è importante per quanto riguarda la gestione delle spese di ristrutturazione di Lizia è la previsione che non deve essere più distinta all'interno della fattura dei lavori non deve esserci più la distinzione del costo della manodopera. Quindi per tutti i lavori effettuati, per tutte le fatture, per lavori effettuati fino al 13 maggio 2011 rimane l'obbligo di distinguere in fattura il costo della manodopera dal costo dei materiali e dagli altri costi. Per i lavori effettuati dal 14 maggio 2011 tale obbligo viene meno. Per rispondere alle novità introdotte dal decreto legge 70 2011 è stato modificato il quadro, la sezione 3 della dichiarazione dei redditi modello 730 per cui per detto quadro andrà compilato in modo diverso a seconda se i lavori siano iniziati nel 2011 o in annualità precedenti. Se i lavori sono iniziati in annualità precedenti detto quadro andrà compilato esattamente così come veniva fatto nel passato. Non vi è nessuna particolare novità. Per i lavori iniziati nel 2011, a prescindere se gli stessi siano iniziati ante decreto legge 70, quindi fino al 13 maggio 2011 oppure siano iniziati successivamente occorrerà compilare una nuova colonna che è stata introdotta nel modello di quest'anno. In questa colonna occorrerà indicare il numero di identificazione dell'immobile in modo che poi lo stesso venga riportato nella sezione B. sezione B all'interno della quale andranno inseriti i dati catastali identificativi dell'immobile stesso. Per cui la novità di compilazione è rappresentata appunto dalla nuova colonna che va a identificare l'immobile sul quale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione nel corso del 2011. Vale la pena ricordare che se si sono effettuati più interventi sempre nel corso del 2011 tali interventi andranno identificati con lo stesso codice identificativo. L'esempio che abbiamo fatto nella slide prevede appunto che siano stati effettuati due interventi di ristrutturazione sullo stesso immobile, uno dell'importo di 15.000 euro e uno successivo dell'importo di 12.000 euro. Tutte e due questi interventi pur essendo oggetto di una distinta procedura sono stati identificati, devono essere identificati con lo stesso codice immobile perché riferiti appunto al medesimo fabbricato. La novità vera di compilazione è rappresentata quindi dalla sezione B la sezione B dove occorre indicare i dati catastali che identificano l'immobile e tutti gli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36%. Questa sezione B si compone di una serie di colonne a colonna 1 dovremmo andare a indicare il numero d'ordine dell'immobile cui questi dati si riferiscono, la colonna 2 è particolarmente importante perché va a raccogliere l'informazione relativa al fatto se il lavoro cui ci riferiamo è iniziato antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge numero 70 e quindi per lavori iniziati fino al 13 maggio 2011 quindi soggetti all'obbligo dell'invio della raccomandata al centro operativo di Pescara oppure se successivi. Quindi per tutti i lavori che sono stati effettuati prima dell'eliminazione dell'obbligo della comunicazione al centro operativo di Pescara quindi per i lavori iniziati antecedentemente al 14 maggio 2011 in colonna 2 occorre barrare la colonna 2 perché indica che è già stata fatta questo tipo di comunicazione e quindi non si è obbligati a compilare gli altri dati relativi all'identificazione dell'immobile quindi compilando, barrando soltanto la colonna 2 si è completata la corretta compilazione del quadro. La colonna 2 della sezione 3B va barrata oltre nel caso in cui vi sia già stata la comunicazione al centro operativo di Pescara per lavori iniziati antecedentemente al 14 maggio 2011 va barrata, dicevo, anche per interventi effettuati su parti comuni condominali dopo l'entrata in vigore del decreto che ha eliminato l'obbligo della comunicazione al centro operativo di Pescara. Quindi il singolo condomino proprietario appunto della parte comune dovrà barrare questa casella dichiarando in questo modo che la spesa riportata nella sezione 3A si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominali. In questo caso non dovrà inserire nessun dato identificativo dell'immobile in quanto questi dati verranno riportati dall'amministratore di condomino nel quadro AC della sua dichiarazione di redditi. Quindi riepilogando, la colonna 2 della sezione 3B dovrà essere compilata, barrata in questi due casi. Nel primo caso quando il lavoro è stato effettuato antecedentemente al 14 maggio 2011. Nel secondo caso quando per lavori successivi al 14 maggio 2011 ci si riferisce ad interventi su parti comuni condominiali. Quindi in entrambi i casi barrando questa casella non si ha più l'obbligo di inserire tutti gli altri dati identificativi dell'immobile. Evidentemente laddove non venga barrata la casella numero 2 occorrerà indicare tutti gli estremi identificativi dell'immobile interessato all'intervento di ristrutturazione edilizia. Nel caso che abbiamo simulato appunto in colonna 1 va inserito il numero d'ordine dell'immobile a cui ci si riferisce, nel codice comune va inserito chiaramente il codice catastale del comune all'interno del quale è localizzato l'immobile interessato dall'intervento di ristrutturazione. In colonna 4 va indicato se si tratta di catasto terreni oppure se è catasto edilizio urbano. Quindi con T se si tratta del catasto terreni e con U se si tratta invece di un immobile censito nel catalasto edilizio urbano in colonna 5 va indicato con la causale I se si tratta di un immobile intero oppure con la causale P se si tratta di una porzione di immobile. In colonna 6, 7 e 8 poi andranno indicate i classici dati relativi alla sezione, al foglio e alla porticella e infine in colonna nuova l'eventuale subalterno se è presente il numero di subalterno indicato nel documento catastale. Altra particolarità che va tenuta presente nella compilazione della nuova sezione 3B del quadro E è relativo al fatto se i lavori sono effettuati dal conduttore o dal comodatario. Quindi in questo caso, nel caso appunto in cui le spese siano state sostenute dal conduttore o dal comodatario oltre ai dati identificativi dell'immobile riportati nel rigo precedente con le modalità che sono state appena descritte occorrerà anche riportare i dati di registrazione del contratto di locazione o del contratto di comodato. Quindi nel rigo E53 vi sono gli spazi relativi ai dati relativi appunto agli estremi di registrazione del contratto di locazione o del contratto di comodato. Altra particolarità, è previsto anche che nel caso in cui l'immobile non sia ancora stato censito al momento della presentazione dei redditi occorrerà comunque indicare, riportare gli estremi della domanda di accatastamento. Quindi anche in questo caso occorre fare particolare attenzione alle modalità di compilazione di questo quadro di nuova istituzione. Proprio perché i dati che verranno riportati sono quei dati che sostituiscono tutti gli elementi che in precedenza venivano forniti attraverso la comunicazione al centro operativo di Pescara. Ultima particolarità che non ha rilevanza immediata nella compilazione del quadro relativo alle spese di strutturazione edilizia ma ha rilevanza ai fini della corretta individuazione del beneficiario della detrazione prevista per lavori di strutturazione e quanto la normativa prevede rispetto all'ipotesi di cessione dell'immobile sul quale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione. Vi ricordo la normativa fino a 16 settembre 2011 le quote residue di detrazione venivano attribuite all'acquirente dell'immobile ristrutturato. Quindi nel momento in cui io avevo sostenute delle spese di ristrutturazione sull'immobile di mia proprietà, cedevo detto immobile, cedevo anche il diritto a godere del beneficio fiscale relativamente alla quota parte di detrazione ancora da fruire. Dal 17 settembre, il periodo che va dal 17 settembre 2011 al 31 dicembre 2011 il decreto legge 138 2011 aveva previsto che le parti potevano liberamente negoziare questa opportunità potevano decidere in libertà se questo beneficio veniva trasferito unitamente all'immobile, all'acquirente oppure se rimaneva a titolo del cedente. Ovviamente questa opzione doveva essere esercitata nell'atto di acquisto o di cessione dell'immobile. Dal 1 gennaio 2012, il decreto legge 201 2011 ha invece previsto che le quote sono attribuite all'acquirente salvo diverso accordo. Quindi se nel contratto di cessione, di compravendita dell'immobile oggetto di intervento di ristrutturazione di edilizia non è specificatamente previsto nulla le quote residue sono attribuite all'acquirente. Se invece è sancito la possibilità che siano attribuite all'acquirente queste rimarranno in campo allo stesso. Quindi la possibilità di scegliere è rimasta nella fase transitorio le parti dovevano comunque scrivere nell'atto notorio quale opzione era stata esercitata dal 1 gennaio 2012 se non c'è scritto nulla la quota residua viene attribuita all'acquirente salvo diverso accordo che comunque deve essere riportato nell'atto notorio. Grazie. Grazie.